buon pomeriggio a tutti presenti online e questa è la settima lezione di questo corso speriamo che vada avanti sì di presenza perché in modalità blended visto che i sviluppi nazionali non sono positivi il commento di oggi è una cosa nuova per voi dovrebbe essere una cosa nuova se me lo confermate ovvero la programmazione concorrente quindi stiamo ancora nel modulo di complementi di programmazione con oggi finiamo diciamo delle cose che non sapevate che aggiungiamo che ci servono in questo corso questo è l'ultimo argomento dopodiché la settimana prossima possiamo partire proprio a regime con il corso quindi la parte dell'interfaccia grafica e prenderà subito una certa velocità andremo a realizzare molto presto delle applicazioni concrete ho deciso quest'anno di realizzare in classe il note pad in due fasi una fase in cui facciamo l'interfaccia una fase in cui implementiamo un suggeritore di parole un correttore di testo automatico una seconda applicazione sarà il gioco dello snake che diventerà anche un progetto un progetto in cui il snake va pilotato in maniera intelligente dalla macchina e sto scrivendo tra l'altro i progetti le tracce di progetti usciranno a breve una terza applicazione sarà il pacman e una quarta applicazione probabilmente il gioco del tris con intelligenza artificiale credo queste saranno le quattro applicazioni principali che implementeremo in classe bene come promesso ogni lezione iniziamo dicendo perché stiamo facendo quello che stiamo facendo quindi per rispondere a questa domanda io apro il task manager task manager lo conoscete tutti no ci sta in tutte le piattaforme in linux si chiama ubuntu monitor resource monitor una cosa del genere in windows si chiama task manager in mac os si chiama system monitor activity monitor ti pareva è un'applicazione che vi fa vedere una videata di tutti quelli che sono i processi in esecuzione sulla macchina non solo processi utente ma anche processi del sistema per esempio da qualche parte ci sarà il kernel di windows adesso non lo riesco a trovare ma lo troviamo subito perché quello che andiamo a vedere oggi non ci interessa tanto la rama occupata o quanto processore stanno utilizzando questi processi ma c'è una colonnina che magari qualcuno di voi si sarà chiesto ma che cos'è questa colonna oggi rispondiamo a questa domanda che cosa è un thread e a che cosa servono i thread ok perché mi pare e penso pare anche voi che tutti i programmi abbiano almeno più di un thread infatti se noi li mettiamo in ordine di numero di thread praticamente di programmi che hanno un solo un solo 13 ci sta un app data fox it è un'applicazione per leggere pdf è un app data quindi è un programma veramente semplicissimo l'altro sono due programmini che servono io su windows 8 su questa macchina per rendere il menu di windows 8 simile agli altri windows e basta basta tutti gli altri programmi sono da 2 più thread fino ad arrivare a programmi complessi come l'esplora risorse di windows è un programma molto complesso che deve interfacciarsi con il disco con l'obsessio operativo eccetera poi c'è il kernel quindi il sistema l'esplora risorse a 114 3d il kernel ne ha 99 e questi numeri tra l'altro cambiano se noi stiamo a vedere powerpoint powerpoint ecco già è passato da 21 a 20 ora io provo a fare qualcosa sto rovinando le slide appositamente per vedere se nel frattempo però devo essere veloce altrimenti la dimostrazione non riesce se vive mouse è però è successo è risultato nel frattempo è salito a 28 thread però scusate non mi fa di ordinare la slide quindi sono tornato indietro non penso che adesso lui è salito a 29 thread ok si aspettasse un po di tempo questo numero di thread probabilmente dovrebbe scendere quindi c'è questo numero di 3d che sale se io faccio qualcosa dopo un po di non aspettare scende se non faccio niente oppure non è sempre non è sempre possibile capire la dinamica di questo numero come mai salgono e scendono per una cosa è certo che ce ne sono tanti ogni programma ne ha tanti vedete sta scendendo ogni programma ne ha tanti in particolare più di uno invece tutti i programmi che avete che avete che abbiamo realizzato fino ad ora compreso per esempio il programma dell'ultima volta che adesso io mando in esecuzione ci ho messo solo una pausa a un certo punto per non terminare il programma se andassi nel mio task manager e di nuovo mettessi in ordine di numero di thread vedrei il mio programma triste che è uno di quelli pochissimi che ha un solo thread questo quindi cosa vi fa capire che c'è uno spartiacque tra i programmi tra virgolette scherzosi didattici giocattoli che hanno un thread e i programmi seri che hanno più di un thread seri che significa seri per esempio che hanno un'interfaccia grafica quindi dobbiamo colmare questa lacuna se questo è un corso che vi deve traghettare verso la realizzazione di applicazioni reali questo è sicuramente un deficit che ora hanno le nostre applicazioni quindi ora lo spiegherò meglio non è tanto perché ci fanno invidia le altre applicazioni dobbiamo essere come gli altri ma perché c'è una vera utilità ed è quella che oggi l'obiettivo è quello di comprendere questa utilità quindi assodato che tutti i programmi generalmente hanno sempre più di un thread che i nostri invece ne hanno solo uno come mai dove sta il problema cosa ci manca a noi per essere come gli altri quindi per realizzare applicazioni di un certo livello ci manca la programmazione concorrente la programmazione concorrente è un paradigma non è un paradigma assoluto di programmazione ma è anche un paradigma di esecuzione cioè la programmazione concorrente è un'invenzione di degli anni 70 80 in cui i sistemi operativi prima dell'avvento di questa invenzione funzionavano monotask che significa monotask che volevi aprire il tuo editor di testo ovviamente non c'era windows non c'erano le finestre c'era insomma schermo nero si apriva un editor di testo era una cosa tipo first world command line non so se riesco a trovare non world 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 processor world processo se riesco a beccare uno screenshot erano programmi di questo tipo ok però il problema era che io avviavo questo programma un editor di testo e punto non potevo usare altri programmi nel frattempo non potevo nemmeno controllare l'ora una cosa che noi oggi diamo per scontato io vado su che ore sono chiedo chiedete che data è oggi il fatto che c'è un calendario è un orologio è un programma che è in esecuzione in questo momento insieme tutti gli altri programmi tra cui il browser e tra cui il mio editor di testo una volta che i computer erano monotask cioè il computer o meglio i sistemi operativi erano monotask cioè un task alla volta volevi aprire un altro programma dovevi chiudere quello corrente e aprire un altro programma insomma abbastanza noiosa come cosa è stato introdotto negli anni fine anni 70 anni 80 i multitask e se non sbaglio non vorrei dire una cavolata molte cose sono state introdotte da apple ultima io non sono un fan apple e lo so che non sembra sembra una cosa questo mi serve perché devo sviluppare applicazioni su tutte le piattaforme quindi se non ho il mac non lo posso fare per il mac purtroppo serve il mac e questo ce l'ho perché una volta che c'ho questo io mi arriva una chiamata qua risponderà qua quindi se questo dimenticato a casa e sono un po smemorato mi succede rispondo alla computer quindi questo è il reale motivo anzi se dovessi scegliere un sistema operativo per tutta la mia vita e non cambiarlo mai sceglierei sicuramente o linux o windows windows se voglio giocare linux se voglio lavorare ma non mac os non lo sceglierei assolutamente quindi chiusa questa parentesi introduce first time sicuramente non lo so forse ho sbagliato a cercarlo sarà difficile trovare il primo sistema operativo first operative system multi support che magari l'invenzione è stata veramente bisogna leggere bene però quasi dice solo che è stato introdotto da windows nt mi sembra strano a colfice che fa insisto qui dice solo quando l'ha introdotto microsoft non dice it was later adopter on apple later as a unix like operating system quindi ho trovato windows arrivato prima di apple a meno su questo quindi mi sbagliavo comunque è un'invenzione degli anni 80 quindi inizio anni 90 mi fa pensare che c'è stato qualcuno che l'ha introdotto comunque per primo in assoluto non stato windows cos'è il multitasking ragazzi il multitasking è la possibilità di appunto eseguire diversi programmi diversi task contemporaneamente ora però bisogna stare molto attenti a questa parola qua la terminologia importante che significa contemporaneamente cioè significa che se io vado nello stesso istante temporale quindi il microsecondo dentro il calcolatore ci sono istruzioni di due programmi diversi in esecuzione nello stesso momento no non intendo questo per contemporaneamente sarebbe più corretto dire nello stesso intervallo di tempo quindi se io prendo un secondo in quel secondo la cpu che una volta era solo una il processore era uno solo monocore viene veniva e viene ancora data ad un programma poi viene tolta dopo 5000 secondi dato un altro programma poi viene tolta dopo un millesecondo perché magari questo un programma a bassa priorità e quindi non può ottenere la cpu più degli altri e così via questa cosa si studia in un corso di sistemi operativi lo studierete quando farete questo corso in questo in altre facoltà è comunque una nozione importante i sistemi operativi sono un argomento di base della dell'informatica quindi prima o poi qualcuno vi dirà come funzionano i sistemi operativi io vi sto dando un cenno i sistemi operativi ovviamente sono di software molto complessi è una delle tante cose che fanno è gestire la cpu la cpu e tutte le risorse ram vi disco ma soprattutto la cpu perché senza cpu nessuno calcola e se nessuno calcola sta cosa si frizza schiatta se avete mai provato a per gioco io sì a togliere dissipatore da un codon da un cp qualcuno li va approvato che è successo non si brucia subito succede un'altra cosa più interessante se si toglie il dissipatore da da un da un corda da una cpu da un processore ovviamente aumenta la temperatura del processore e il processore va in uno stato di insomma capisce che si sta riscaldando e abbassa la frequenza l'abbassa a un punto tale che il computer rallenta siete proprio il mouse che fa a scatti a un certo punto si ferma tutto perché il calcolatore non è che si è bruciato va talmente lento che non riesce più a gestire il multitasking che significa non riesce più gestire multitasking che siccome il sistema operativo almeno fino a qualche anno fa aveva soltanto un processore in gestione questo processore doveva essere dato a tutti i programmi che ne so quanti programmi erano in esecuzione sul computer beh stiamo parlando comunque di windows 95 98 2000 i primi linux i primi mac os superativi multitasking dovevano far fronte a questa necessità e i programmi in esecuzione erano comunque tanti anche centinaia come faceva il sistema operativo come fa ancora adesso come ho detto prima utilizza un algoritmo di scheduling si chiama scheduling della cpu è un algoritmo che usa una coda di priorità tra l'altro non le code con priorità le discuteremo in questo corso quindi usa proprio quelle cose che noi vedremo e in base alla priorità del processo chiaramente chi è che alta priorità tra tutti i processi di prosecuzione prima abbiamo visto una classifica non era una classifica di priorità ma comunque c'erano dei processi che avevano una priorità elevata l'esplora risorse sicuramente deve averla elevata figurati se l'utente clicca su una cartella e non vede che c'è dentro si arrabbia un pochettino no addirittura il kernel il kernel di un sistema operativo penso sia la cosa che abbia la più alta priorità tra tutte perché è quello che gestisce il funzionamento di base del sistema operativo stesso quindi la priorità fa sì che i processi che ce l'hanno più alta gli viene dato più tempo per usare la cpu però questo tempo scade cioè è molto piccolo questo tempo dell'ordine dei millisecondi e quindi la cpu passa viene data ad un programma viene tolta ad un altro programma tolta ad un altro programma ad un altro programma poi si ricomincia in una cosa cosiddetta circolare quindi esiste una cosa circolare in cui tutti quanti si prendono la cpu poi si ricomincia in giro è un po come non lo so siamo tra amici ci mettiamo in cerchio e ci passiamo una birra un po per tutti magari c'è chi beve di più c'è chi beve di meno però tutti devono essere accontentati questo avviene quindi ora capite perché non è vero la contemporaneità è sbagliato come concetto quindi non è vero se voi state tra amici non esistono due persone che si bevano a birra contemporaneamente se la bottiglia è una un po per volta però se la cosa avviene velocemente talmente velocemente che noi utenti non ce ne accorgiamo che tutti i programmi vanno a scatti sto dicendo una bestemmia voi che magari avete giocato a dei videogiochi di grande livello sappia sapete che c'è un frame rate vi piacciono ormai ora va di moda minimo 60 fps minimo se sta sopra 100 siamo ancora più contenti vero tra l'altro ci sono dei schemi a 100 hertz quindi un frame rete a 100 100 frame a secondo su uno schermo a 100 lo vedete e fremerete sì sì vero che si vede la differenza rispetto a un banalissimo 50 fps io quando ero giovane 25 fps era già aspettato va bene il gioco adesso voi state ormai al 100 ai 100 hertz bene questo per dirvi che anche se noi non ce ne accorgiamo abbiamo l'illusione che sia tutto fluido io gioco ad un videogioco uso mi vedo un film tra l'altro i film sono molto dispendiosi come utilizzo della cpu perché devono decodificare il film il filmato non è non è memorizzato immagine per immagine in maniera grezza ma è codificato compresso quindi la cpu fa un sacco di lavoro per farvi vedere un film scaricato da internet mentre se state usando lo streaming da netflix ok per esso e sono i server di netflix che fanno questo lavoro non siete necessariamente voi non è il vostro computer a fare questo lavoro chiuso parentesi e noi abbiamo quindi l'illusione che tutto avvenga molto fluidamente ma in realtà tutto va a scatti solo che questi scatti sono talmente piccoli che non ce ne accorgiamo questo mouse ci sembra fluido ma in realtà durante questo movimento il processo deputato al movimento del mouse è stato interrotto tante volte ma avviene tutto così velocemente che io non me ne accorgo che questo avviene ma avviene il sistema operativo toglie e da un altro toglie e da un altro anche mentre vi vedete un bel film mentre vi state vedendo le scene anche più insomma più d'azione in quel momento nonostante siano fluide il sistema operativo ha interrotto il film per un attimo ha dato la cpu al resto degli altri di altri processi sicuramente il sistema operativo che non è che mi sto vedendo un film appunto il computer è un ecosistema dove vivono altri programmi quindi viene dato anche ad altri programmi però ormai le frequenze del cpu sono così elevate tra l'altro non ce n'è più sono una ce ne sono tipicamente oggi almeno due dual core oramai nei portateli si trovano facilmente quad core o addirittura qualcuno c'è pure ecta core ci avete qualche ecta core 8 noi laboratori ovviamente abbiamo la workstation con tanti tanti ecta core in tutti i processori da 8 core ciascuno che ci avete voi sui vostri portati dual core monocore non ci credo che ci avete monocore almeno dual core qualcuno c'ha quad quad nessun hexa o recta hexa sono 6 ecta sul telefono può essere sì anche certamente anche i nostri smartphone oggi hanno più di un processore assolutamente anzi loro sono abbastanza complessi perché ci hanno un processore generico un processore grafico come il resto i computer la scheda grafica hanno anche loro il processore grafico e ci hanno anche un processore per l'intelligenza artificiale lo capirete se farete la magistrale qui o in altri corsi dove ci sono insegnamenti di intelligenza artificiale quello ha bisogno di calcoli a parte quindi tutto questo per dirvi che la programmazione concorrente è il paradigma attraverso il quale i programmi vengono eseguiti insieme nello stesso intervallo di tempo ma se andiamo a considerare l'istante temporale ce n'è uno alla volta voi dite va bene ma se c'è due processori non cambia niente perché comunque due processori o tre o quattro o sei o otto quanti programmi ci sono in esecuzione in quel momento ve l'ho fatto vedere nel task manager quanti sono e sono in questo momento non ci sta qua la barra con i numeri ma sono dell'ordine della cinquantina quindi per quanti processori io abbia non potrà mai essere che questi programmi sono tutti in esecuzione nello stesso istante sicuramente sta avvenendo quello che vi ho appena detto cioè che i processori vengono dati un po a tutti in questo caso io credo di avere un quad core quindi comunque non ce la farei a soddisfare i bisogni di tutti i processi di tutti i ma distinzione altrimenti si fa confusione noi quello che sto per spiegarvi tratta la programmazione concorrente la programmazione concorrente è un paradigma generico in cui i processi sono in esecuzione nello stesso intervallo di tempo se invece noi volessimo perché perché magari stiamo facendo calcolo scientifico o perché magari dobbiamo utilizzare un videogioco i videogiochi sono tutti così io ormai non basta non mi accontento di una cpu di un processore perché l'applicazione è talmente potente talmente complessa come un videogioco che ha bisogno di essere eseguita in diversi su diversi processori nello stesso istante quella è programmazione parallela parallelismo parallelo significa che nello stesso istante se noi andassimo con la lente d'ingranimento con tutte le sonde nei vari circuiti ci accorgeremo che parti dello stesso programma sono eseguite contemporaneamente stavolta nello stesso istante temporale e questo avviene tipicamente in quali componenti di un computer oggigiorno che quasi tutti o mai abbiamo nelle schede grafiche le schede grafiche per esempio la ultimissima su cui hanno fatto pure i meme gtx 3080 how many cores quanti processori alla gtx la rtx 3080 ne ha 8704 processori qua non stiamo più parlando di dual core di quad core di 8 core questo è un super computer lo è lo sarebbe stato vent'anni fa questo sarebbe stato solo questa scheda grafica sarebbe stato il computer più potente del mondo non sto dicendo una bestemma e vabbè c'ha anche 10 giga di me state sbavando no soprattutto i videogiocatori raccogliete la bava che sta a terra quanto costa sta cosa 1.500? 2? non lo sapevi? 1.500 professore 1.500 1.500 lo sa quindi significa che se ne è interessato grazie giuro che non lo sapevo ho sparato una cifra proprio completamente a capo beh sì comunque il valore di mercato è quello e quindi chi aveva la 2.070 l'aveva appena comprata fiero della sua spesa e si è dimezzato il valore di mercato di quella scheda no colpami allora scusate vi ricordavo 1.500 con i prezzi tipo ah no perché la 3.070 costa 500 ok comunque costa tanto va bene quello che costa costa è importante capire che queste schede grafiche oggigiorno anche quelle che stanno sui nostri smartphone hanno centinaia e se non migliaia di processori ovviamente pure dice almazza la cpu è fatta di 4 core le gpu sono fatte di 8.000 core e allora le gpu sono più potenti sono dei processori più piccoli meno potenti presi singolarmente però sono specifici per alcune operazioni per esempio ci sono i processori che si occupano di fare calcoli trigonometrici quindi c'è il processore che fa il seno quello fa nella sua vita fa seno c'è il processore che fa coseno c'è il processore che fa tangenti c'è il processore che fa radici quadrate questo perché nei videogiochi la trigonometria è importante perché i videogiochi si basano sulla geometria quindi da qui ci sono i processori dedicati quindi questa è la distinzione che volevo farvi noi non stiamo in questo momento io non vi sto per parlare di programmazione parallela ma di programmazione concorrente qual è un'altra differenza della programmazione concorrente? lo dice la parola concorrenza che c'è una sorta di guerra mentre nella programmazione parallela c'è una cooperazione la programmazione parallela può essere solo cooperativa altrimenti non avrebbe proprio senso cioè o due entità sono in esecuzione nello stesso momento e non hanno niente a che vedere con l'altra quindi sono parallele, proprio sono disgiunte da un punto di vista logico oppure stanno svolgendo insieme cooperando un task più grande per esempio un videogioco quando noi giochiamo a un videogioco molto complicato ci sono diversi programmini che fanno cose diverse nella GPU per darvi poi quel bellissimo rendering su schermo del videogioco nella concorrenza invece si fa la guerra ora vediamo perché cioè appunto da momento che non c'è parallelismo ciascuno degli attori in gioco dei programmi in esecuzione non solo cerca di prendersi la CPU ma deve sapere che quando lui è in esecuzione gli altri non sono in esecuzione perché come vi ho detto uno alla volta questa è la differenza programmazione concorrente uno alla volta programmazione parallela ognuno per cavoli suoi cooperando magari ma comunque ognuno sta nel suo giardino ognuno ha il suo giardino nella programmazione concorrente invece il giardino è condiviso e quindi bisogna averne cura ora lo definiamo quindi dal paradigma di programmazione parallela si deriva la programmazione parallela multiprocesso per esempio processi che fanno cose diverse su CPU diverse dalla programmazione concorrente si deriva il paradigma multitread e ora vediamo appunto cosa sono i thread quindi definiamo cos'è un thread un thread è un programmino che significa un programmino? che un processo è un programma in esecuzione questa è una cosa che stava scritta nella prima slide di complementi di programmazione o nella seconda slide un programma adesso vi dico che il thread è un programmino è una parte di un programma è una parte di un processo la definizione letterale è la più piccola sequenza di istruzioni gestibili dallo scheduler di un sistema operativo lasciamo stare adesso questa definizione che ha bisogno di una comprensione un po' più approfondita di come funzionano i sistemi operativi voi dovete pensare al thread come delle piccole porzioni di un programma che hanno un compito ben specifico per esempio sono su powerpoint ora abbiamo visto che ce ne sono 28 ma adesso non so quanti ce ne sono in esecuzione in questo momento 31 addirittura siamo saliti ci sarà vado a braccio magari è diverso da quello che dico però per rendervi l'idea ci sarà un thread che si occupa di gestire queste anteprime un thread che si occupa di gestire questa barra di stato qui che ogni volta che io adesso non sono su Word su Word c'è ogni volta che mi sposto con il cursore la barra di stato aggiorna i caratteri che sto scrivendo eccetera ci sarà un thread che controllerà la correttezza sintattica ortografica del testo quindi se io sbaglio a scrivere qualcosa non so adesso la lingua se è giusta non me l'ha sottolineato forse io l'ho disattivato comunque in generale c'è un thread che gestisce la correttezza ortografica c'è un altro thread che gestisce gli strumenti di disegno un altro thread che gestisce i fonte poi c'è il thread che gestisce la interfaccia grafica nel suo complesso come quando noi useremo QT cioè quando noi diciamo questi suoni pulsanti se i pulsanti ci clicco succede questo ora io sono arrivato a 4-5 thread ce ne sono molti di più ce ne starà uno che gestisce i salvataggi su disco in background quindi siamo arrivati a 6 thread ce ne sta uno che gestisce gli aggiornamenti quindi dice guarda c'è un aggiornamento disponibile quindi ha controllato in rete se è connesso al server e siamo arrivati a 7 ora non so come si arriva a 28-30 però vi do un'idea di cosa significano thread piccole parti del programma deputate ad un compito preciso bene quindi ad un processo generalmente corrispondono n thread e ne abbiamo visto nel task manager il kernel ne ha un centinaio explore resource ne ha più di 100 tutti i programmi ne hanno generalmente decine oppure pochi ma comunque mai meno di due perché mai meno di due? perché la maggior parte dei programmi hanno un'interfaccia grafica e già il solo fatto di avere un'interfaccia grafica significa che ce ne sta almeno uno di thread per l'interfaccia grafica è almeno un altro thread che fa tutto quello che non è grafica quindi fa calcolo, fa controlli, la logica del programma e in effetti sarà proprio così quando noi a breve introdurremo gli strumenti di Qt un po' più avanzati ci renderemo conto che Qt ma non solo Qt tutti i framework di programmazione grafica hanno bisogno di almeno due thread perché se così non fosse la grafica si bloccherebbe ora capiremo perché quindi thread sono i filoni di un processo sono pezzettini di un processo simbolizzati con questi vermicelli sono eseguiti concorrentemente quindi significa che uno alla volta se la CPU è una se la CPU non è una se siamo fortunati vengono messi su CPU distinte lo decide il sistema operativo altrimenti potrebbero anche loro essere soggetti a uno alla volta ma soprattutto siccome i thread sono dei figli di un processo sono le parti di un processo i thread condividono tutta l'area del processo quindi condividono l'area delle istruzioni l'area dei dati statici e globali condividono l'area condividono le variabili di stack condividono le variabili di heap condividono tutto cioè un thread vede e accede agli stessi dati di un altro thread lo può fare ok? li vede e questo è il vantaggio della programmazione multitread che io condivido e il vantaggio e lo svantaggio condivido la memoria quindi se io sto facendo una cosa tu ne stai facendo un'altra siamo due thread diversi io ti devo passare qualcosa il passaggio è banale lo metto in un array lo metto in una struttura dati e ti do l'indirizzo perché tanto tu siccome sei un mio fratello condividi con me lo stesso spazio se invece fossimo se invece a dialogare non fossero due thread ma fossero due processi non sarebbe più così banale perché la memoria di un processo non è accessibile da un altro processo infatti la interprocess communication ha bisogno di meccanismi tutt'altro che banali in quel caso si usano si usa la programmazione di rete si usano i socket socket TCP cioè si usano dei buffer di sistema operativo deputati a inserirci dei dati per scambiarli con altri processi quindi la comunicazione tra processi non può usare la stessa memoria non può condividere memoria perché la memoria appartiene sempre ad uno ed un solo processo il sistema operativo quando assegna la memoria ad un processo nessun altro ci può entrare anche se sofisticate metodologie di hacking consistono proprio nell'invadere lo spazio di memoria di altri processi per andare a curiosare o a inserire il codice malevolo però sono cose complesse in generale un sistema operativo fatto bene non impedisce ad un processo di uscire fuori dal suo giardino ed è questo il problema quando il programma crasha vi dice errore di segmentazione segmentation fault significa proprio che si è usciti dal giardino del processo ora il fatto di condividere la memoria e quindi che l'accesso alle variabili globali e altre risorse è possibile è proprio questo sia sia un vantaggio che uno svantaggio se i diversi thread di un processo possono accedere alle stesse area di memoria significa che possono anche io accedo ipotizzando di essere il solo per un attimo dopo il sistema operativo da la cpu ad un altro thread quell'altro thread accede a quella stessa area di memoria dove io magari stavo scrivendo un dato però non ho finito di scriverlo stavo facendo un calcolo non ho finito di fare quel calcolo e quindi ora vediamo succedono cose abbastanza strane i programmi moderni sono tutti multi thread quindi ogni processo ha almeno un thread ok un po' di pratica siamo in cpu in cpu i thread si trovano nella standard template no nella libreria standard del cpu e c'è una classe si chiama thread tra l'altro questo è dal cpu 11 prima non c'era quindi stiamo facendo qualcosa di già un po' più moderno del vecchio standard che viene insegnato nei corsi di fondamenti che non è cioè è una cosa che uno sopra l'altro gli standard sono definiti quindi quello che avete studiato è il cpu il cuore del cpu poi mano a mano sono state aggiunte delle cose tra cui i thread come si crea un thread il thread è deputato a svolgere un compito quindi quando io creo un thread gli devo dare il compito da eseguire e il compito da eseguire a livello di programmazione è una procedura è una funzione quindi creo un thread e gli dico di svolgere la funzione fu creo un altro thread e gli dico di svolgere quella stessa funzione ora questa è una funzione che non fa altro che dire ciao hello world questo è l'hello thread ciao dal thread e questo è un metodo statico che stampa l'id l'identificatore del thread quindi ciao dal thread numero da dettagli proviamo ad eseguire questo codice giusto per capire di che si sta parlando quindi andiamo nel nostro dev creiamo un altro progetto un nuovo progetto chiamiamo hello thread hello thread tra l'altro anche il dev dovrebbe avere più di un thread altrimenti il dev veramente c'è un solo thread e come fa ad avere un solo thread ancora no deve ancora compilare deve ancora creare le cose in questo momento c'è un solo thread non saprei spiegarmi come mai è un programma è un ide molto leggero è visual studio voglio vedere se c'è un solo thread no assolutamente no allora creiamo questo hello thread lo creiamo lo creiamo nella programmazione concorrente nuova cartella hello thread 2020 l'anno in cui ci troviamo qua ci metto qua ci metto quello che sta nella slide devo includere la classe thread il file dove è definita la classe thread e e vedere che succede cosa è questo join qui alla fine siccome il thread è un programmino una parte di programma lui quando va in esecuzione io devo capire quando finisce join è un metodo che dice finché non hai finito io non vado avanti quindi join è una chiamata ad una funzione cosiddetta bloccante cioè finché questo thread non ha finito di fare il suo compito in questo caso è solo una stampa però potrebbe essere un compito anche molto complesso supponete che si deve connettere a internet magari la richiesta non va in time out ancora e quindi devo aspettare che vada in time out e quindi quando ha finito il thread io vado avanti quindi questa è una chiamata bloccante finché non finisce non si va davanti non si va oltre finché non finisce questo non si va oltre proviamo ad eseguire questa cosa qui è successo qualcosa di strano però per capirlo bene questa cosa ci tornerò fra mezz'ora e daremo un motivo per cui è successo quello che è successo cioè io sembra che non sia andato a capo quando ha scritto ciao dal thread ma l'andata a capo c'è sto davanti a voi sta sia qua che qua quindi quanti thread dicono ciao mondo uno due e tre perché il main è un thread anzi è il thread padre è il programma principale il main quindi ci sono tre ciao mondo due dai thread figli e uno dal thread principale che tra l'altro si firma pure dicendo main thread vediamo qual è l'ordine di esecuzione ciao dal main thread quindi è il primo che viene eseguito nonostante io abbia detto di creare dei thread prima di lui e gli abbia dato anche la funzione quindi mentre lui li stava creando è partito prima il ciao mondo dal thread principale poi c'è ciao dal thread due e poi ciao dal thread tre allora ciao dal thread manca il numero poi c'è ciao dal thread due ciao dal thread tre e poi c'è uno questo uno a occhio dovrebbe dovrebbe sarebbe dovuto stare qui ma non perché il thread principale ha indice uno ogni sistema operativo ha i suoi le sue insomma la sua numerazione di thread su linux sarebbe stato un numero a sei cifre per dire se proviamo a eseguirlo di nuovo potrebbe anche non essere deterministico potrebbe diciamo che dovrei forse riaviare il computer no non è stato deterministico adesso ho detto ciao dal thread non si sa il numero ciao dal thread due ciao dal thread uno e poi tre quindi non è deterministico andiamo avanti cioè voi dite ma perché sta succedendo questa cosa qui tra l'altro questo è quello che sarebbe successo su un sistema operativo linux probabilmente questo è quello che ci aspettavamo faccio eseguire il thread uno e cioè lo thread dal primo thread faccio eseguire il secondo cioè lo thread dal secondo e poi c'è il main questo è quello che ci saremmo aspettati ma invece abbiamo avuto quello forse dipende dal sistema operativo ci proviamo non ci proviamo sì perché dopo comunque dobbiamo aprirle un nuovo sistema operativo proviamo a cambiare il sistema operativo andiamo su linux stavolta mi sa che mi tocca compilare a mano dove sei allora devo andare in cd media media parallax google drive sta qua no sta qua sta qua devo andare in google drive tecniche di no classroom tecniche di programmazione poi devo andare in modulo a poi devo andare in programmazione concorrente e poi nell'otread siamo in click che non ci si capisce niente e qua ci sta il file sorgente main cpp che ora dobbiamo compilare g++ meno domain punto cpp meno non so come lo chiamiamo lo chiamiamo l'otread si è arrabbiato perché non c'ha dobbiamo dirgli che stiamo usando lo standard del cpp 11 cioè a partire da lo standard cpp 11 non fa niente glielo diciamo che questo sia sufficiente è stato sufficiente e quindi possiamo seguire hello thread system error operation not permitted si bisogna fare una cosa quando bisogna dagli vedete linux come molto più dal punto di vista la sicurezza un processo che usa più di un thread deve avere un permesso di esecuzione speciale fatemelo un attimo cercare su google bisogna fare qualcosa bisogna dire qualcosa sistema operativo bisogna dire qualcosa bisogna dire qualcosa bisogna dire qualcosa ok bisogna aggiungere la libreria dei thread ok bastava solo questo in realtà perché i thread sono una libreria a parte che dipende dal sistema operativo perché dipende dal sistema operativo perché i thread sono una cosa che gestisce il sistema operativo meno l meno l più thread ce l'abbiamo fatto vediamo un po' ma no non è bastato dependenti order matters allora dobbiamo farlo mi è piaciuta questa cosa questo è il motivo per cui bisogna usare cmake perché cmake avrebbe risolto per noi questo problema cioè se cmake si accorge che noi siamo i thread dai il comando esatto per compilare un eseguibile invece non ho usato cmake ho usato la linea di comando e mi sto incapponendo questo coso credo che sia l'ordine quello che conta qui devo dirgli prima e però mi sembra che l'abbiamo detto bene prima lo standard vuole lo standard lo vuole prima di tutti poi vuole i file e poi vuole p thread no non è questo è stack overflow non mi ha aiutato stavolta altro tentativo altrimenti basta professore mi scusi ma l'ultima volta non hai seguito il file che aveva compilato prima perché adesso non gli ha dato nome quando ha compilato sì sì ma senza nome lui comunque lo inserisce lo inserisce in un punto a punto a è vero ma lo stesso l'hai seguito adesso questo nuovo non gli piace il programma c'è include include thread sì fa bene a dim perché deve esserci ma io mi pare che l'ho messo include thread sì sì ci sta questi sono dei warning non credo che sia proviamo così ultima tentativa e poi basta e l'ho di thread e l'ho thread guarda operation not permitted ci arrendiamo? così impariamo a non usare CMake è un peccato perché vi avrei voluto dimostrare che sistemi operativi si comportano diversi si comportano in modo diverso e quindi magari su Linux avremmo avuto un comportamento simile a quello previsto vabbè non fa niente l'importante è che comunque il comportamento cioè è anche positivo che il comportamento su Windows non sia quello previsto ok andiamo avanti ci ho provato c'è qualcos'altro la soluzione qua sarebbe partire andare di CMake risolveremo tutti i problemi però devo scrivere il CMake lo faccio? è anche educativo? eh? l'ho fatto infatti quella era la io ero convinto che bastasse quello proprio convintissimo non capisco che cosa vuole più di questo non penso che il problema sia questo però ho le mod su check mode ah hai la ragione penso che il problema sia questo non mi ricordo la sintassi del cambio di ah c'è lo spazio vabbè davvero basta ci abbiamo provato comunque grazie per il tentativo quindi in realtà noi qua abbiamo già ci siamo già scontrati con un problema però non riusciamo bene a capire qual è il problema ci è sembrato che le stampe non siano state inserite nell'ordine corretto comunque l'importante era qui capire come creare un thread e soprattutto che cosa vuole un thread un thread vuole una funzione perché un thread fa un compito un thread fa qualcosa quindi ha bisogno di un punto d'ingresso potete considerare l'argomento di un thread come il main di quel sottoprogramma un po' come il main e il thread principale quando creiamo un flusso separato dobbiamo ridargli un punto d'ingresso c'è sempre un punto d'ingresso in un programma e un thread è un programma un programmino una parte di un programma quindi ha bisogno di questo punto d'ingresso ora problemi problema nella teoria problema nella pratica anzi perché quasi quasi non andiamo a vedere subito il problema nella pratica poi spieghiamo il problema nella teoria non guardate le slide non spoilerate niente creiamo un nuovo progetto lo chiamiamo hello thread 2 ho copiato? e dai allora vorrei che commentassimo insieme questo programma che in apparenza è molto molto innocente c'è un main quindi thread principale poi c'è un ciclo di 10 iterazioni all'interno di questo ciclo quindi per ciascuna delle 10 iterazioni si crea un vettore di thread e siccome poi c'è un ciclo di altre 1000 iterazioni in cui si aggiunge un thread ogni volta a questo vettore quindi si creano 1000 thread e ognuno di questi 1000 thread gli viene dato come punto di ingresso la funzione fu cosa fa la funzione fu? la funzione fu dorme per 100 millisecondi e poi dorme per 100 millisecondi questa è la funzione di attesa sempre della libreria di thread come era di thread qual è l'id di questo thread questo è un'altra funzione di utilità rimani in attesa dormi per 100 millisecondi e poi c'è un più più counter ora counter cos'è? counter è una variabile globale quindi essendo globale è visibile da tutti gli attori di questo codice di questo programma quindi viene incrementato più più counter poi all'uscita dopo questo ciclo in cui si creano questi thread c'è un ciclo in cui si aspettano tutti questi thread quindi prima si fanno partire e poi si aspetta che tutti quanti terminino una volta che sono tutti terminati si va a stampare il il contenuto di counter ora se la matematica non è un'opinione ma purtroppo l'informatica lo è 1000 thread che fanno più più counter e counter parte da zero quanto fa? ovviamente 1000 dovrebbe fare 1000 vediamo forse 100 millisecondi sono un po' troppi si è arrabbiato? crono non ha ah sì vabbè certo non ha fatto nessuno include include thread include iustream include crono crono serve per misurazione del tempo è sempre una libreria del include vector include vector sono sempre cose che sono state introdotte con c++11 questo è il risultato di tutta l'elaborazione perché appaiono 10 stampe? perché viene stampato in ciascuna delle 10 iterazioni il contenuto di counter quindi la prima stampa sarebbe dovuto essere 1000 perché sono 1000 thread le iterazioni sono 10 quindi alla fine avrebbe dovuto essere 10.000 ma già vediamo che la prima stampa avevamo previsto dovesse essere 1000 sono 997 quindi abbiamo persi 3 la seconda sono 1988 quindi ora ne abbiamo persi oltre a quei 3 ne abbiamo persi altri 9 quindi non è deterministica la cosa 3 abbiamo persi al primo ciclo 9 al secondo adesso bisogna farsi un po' di conti ma alla fine dei conti dovevano essere 10.000 ne sono 107 in meno quindi ci sono ci sono stati 107 incrementi in meno sembrerebbe ma soprattutto questa cosa è deterministica 9.893 era giusto 9.911 e quindi qua ci potremmo divertire tutto il giorno che bel divertimento sarebbe vedere che ogni volta l'esecuzione dà un risultato diverso e questo è un incubo per i programmatori un calcolo che dovrebbe essere banale cioè un counter che viene incrementato mille volte da 1.13 e poi in 10 cicli altre 10 volte quindi 1.000 per 10 fa 10.000 nell'informatica 1.000 per 10 non fa 10.000 ma fa un numero random random in un certo range vi piace questa cosa? no se qui noi stiamo calcolando la traiettoria di un satellite questo va giù non ci piace questa incertezza va bene? perché sta avvenendo questo? chiedo a voi non guardate le slide e se le avete guardate non spoilerate perché sta avvenendo questo? in virtù di tutto quello che ci siamo detti fino ad ora qual è il motivo secondo voi? dove sta il problema? sì beh sicuramente questi thread vengono allocati sulla CPU penso con la stessa priorità perché sono figli dello stesso programma c'è un modo però per dire questo thread ha una priorità maggiore solo che noi non gli abbiamo mai detto quindi in questo momento hanno tutti la stessa priorità che cosa può succedere? io vi chiedo di spacchettare questa istruzione che significa più più pre-incremento no? in C++ questo equivale a equivale a due punti pre-incremento counter più uno quindi sommo uno al valore di counter pre-incremento e poi scusate questo equivale a pre-incremento significa che tu prima di tutto devi incrementare counter quindi counter uguale counter più uno quindi scrittura e poi valuta valuta counter lettura pre-incremento questo significa prima lo incrementi e poi quello che adesso è counter lo consideri quindi se io qui facessi un più 10 prima verrebbe incrementato counter e poi verrebbe considerato il valore e sommato poi 10 in realtà il problema non è tanto questo il problema è questo io vorrei che voi rifletteste su questa riga qui quindi non è perché pre-incremento anche se fosse stato post-incremento sarebbe stato comunque problematico questo codice anzi ve lo faccio vedere cioè non è perché pre-incremento non c'è un trucco qui è perché è usato pre-incremento allora c'è un problema se avessi stato post non ci sarebbe stato problema il problema non è il pre-incremento il post-incremento il problema sta qua ho scritto bene che questa è una scrittura guardate bene che cos'è questa istruzione questa istruzione contempla quali operazioni non ho capito c'è una somma c'è una assegnazione in questo caso una scrittura ma c'è un'altra cosa c'è una terza operazione la sta davanti a voi la lettura prima devo leggere il valore di counter poi devo sommare uno e poi devo mettere quello che sta quindi equivale a ovvero nell'ordine 1 leggi il valore di counter accesso in lettura e qua cancelliamo questo perché è troppo superficiale come interpretazione 2 somma 1 somma 1 quindi questo è calcolo puro calcolo proprio nei registri della cpu vengono messi operandi viene messo il valore di counter viene messo 1 e si somma il risultato viene messo in un altro registro c'è un calcolo avviene dentro la cpu calcolo dentro la cpu i registri della cpu 3 scrivi il risultato in counter accesso in scrittura accesso diciamo ram in lettura accesso ram in scrittura ram non possiamo dire che il ram potrebbe stare in una cache comunque è un accesso in memoria in una delle memorie del calcolatore adesso un po' vi ho dato qualche indizio più grosso di cosa sta accadendo ditemi voi qual è il problema adesso che sappiamo che quell'operazione ne nasconde in realtà tre siccome sono tre operazioni chi vi assicura che nel frattempo mentre io sto svolgendo uno due tre mi si toglie si toglie a quel thread la cpu quel thread magari cosa aveva fatto aveva letto il valore di counter e stava per sommare uno gli viene tolta e gli viene dato un altro a quell'altro quell'altro legge il valore di counter ma lo legge prima che quello di prima l'avesse incrementato e quindi due thread leggono lo stesso valore di counter tutte e due fanno più uno e tutte e due vanno a scrivere lo stesso risultato quindi ci siamo persi un incremento ora questa cosa non avviene a ogni coppia di thread altrimenti anziché mille avremmo avuto 500 avviene con una certa casualità dettata dettata da cosa decide il sistema operativo il sistema operativo decide che ci stanno tutti gli altri processi in esecuzione quindi io mentre sto eseguendo questi mille thread mica simile thread hanno il controllo totale della cpu gli viene tolta e il problema è che gli viene tolta forse nel momento sbagliato questo è il problema non sappiamo quindi ulteriore commento il sistema operativo potrebbe decidere di togliere la cpu al thread in esecuzione anche prima di aver terminato uno due tre ovvero per esempio dopo uno in tal caso due o più diciamo in tal caso due thread leggono lo stesso valore e scrivono lo stesso valore incrementato di uno ed ecco così che ci siamo persi alcuni incrementi quindi questo non ci serve questo perché è avvenuto perché due thread due thread diversi thread in esecuzione accedono ad una variabile condivisa però il modo in cui accedono si fanno aggomiti e quindi nel farsi aggomiti si fanno del male invece sarebbe stato molto più sensato dire io sto facendo questa cosa qui sto facendo uno due tre fammi finire di fare uno due tre finché io non finisco un altro thread non può entrare in questo blocco e fare anche lui il più più counter ok diciamolo meglio da un punto di vista teorico questa è un'analogia che si si usa spesso nella programmazione concorrente introduciamo il problema dei filosofi introdotto da Dijkstra Dijkstra è uno dei più grandi informatici di tutti i tempi ha fatto tante cose in questo corso il nome di Dijkstra ricorrerà molto spesso Dijkstra ha inventato proposto la programmazione strutturata ha inventato e proposto la programmazione concorrente se non altro ha caratterizzato i problemi della programmazione concorrente e ha fatto un sacco di lavoro nella teoria dei grafi è davvero un grande informatico allora seguente problema cinque filosofi siedono in una tavola rotonda ognuno ha un piatto davanti e ognuno di questi cinque filosofi ha una forchetta a destra e una forchetta a sinistra quindi ci sono cinque filosofi e ci sono cinque forchette ognuno ne ha una a destra e una a sinistra queste forchette però sono condivise quindi io che sto ad un piatto davanti a un piatto posso prendere quella di destra o posso prendere quella a sinistra non ce n'è una di mia proprietà non c'è il concetto di proprietà ok? ogni filosofo fa questo nella sua vita o non so offendendo i filosofi tra l'altro abbiamo anche una filosofa nel nostro gruppo un filosofo si alterna tra mangiare e pensare quindi quando mangia ora ragazzi questa è una metafora americana gli americani non sanno mangiare la pasta quindi ha bisogno di due forchette sto filosofo americano va bene? sappiamo che noi italiani ci basta una forchetta e un cucchiaio o solo una forchetta gli americani hanno bisogno di due forchette immaginatele come se queste fossero sono le bacchette cinesi quindi avete bisogno di due bacchette non una però ne può prendere una alla volta non posso fare questo contemporaneamente devo prima fare questo e poi devo fare questo che cosa è questa? la metafora della esecuzione sequenziale cioè io devo io che sono un thread posso fare una cosa alla volta e se no sarebbe tipo inception io che sono thread anche io mi parallelizzo no io thread sono un attore sequenziale quindi una cosa alla volta prima una forchetta e poi un'altra a seconda del lato non è importante finalmente quando ho due forchette magno 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 e dopo un po' poso le forchette una alla volta e mi metto a pensare e poi ricomincio quando c'ho fame che problemi vedete in questo scenario? due tipi di problemi principalmente che succede se ciascuno dei 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 filosofi prende la forchetta di destra e quindi ogni filosofo ha la forchetta di destra gli serve quella di sinistra per mangiare però non ce l'ha l'ha presa quel suo vicino e quindi deve aspettare no? quindi io aspetto il mio sinistro lui aspetta il suo sinistro siamo in cerchio quello che sta a destra di me mi aspetta è un circolo vizioso questo circolo vizioso è chiamato deadlock che significa il blocco della morte letteralmente perché il blocco della morte? perché io aspetto te tu aspetti lui lui aspetta lui lui aspetta lui lui aspetta me tutti ci aspettiamo ma nessuno non fa niente è un po' quello che avviene in alcune situazioni burocratiche in cui a me è caduto spesso devo andare in un luogo l'ami dice che devo andare in un altro luogo e quell'altro impiegato dice che devo tornare nel luogo di partenza e quello è un deadlock che nella vita reale ci sono queste cose che succede a livello di esecuzione nel calcolatore? una cosa molto brutta che il programma possono succedere due cose o l'attesa consuma CPU ed è terribile perché il programma sta consumando un sacco di di CPU tipo va al 99% l'evento le partono ma sto programma non fa niente non fa niente significa che si frizza noi su Windows vediamo la finestra diventa opaca ma in altri sistemi si usano altre metafore per capire che si sta frizzando comunque l'applicazione non risponde e non risponderà mai questo è il problema non è che crasha è questa la cosa brutta noi siamo abituati che i nostri programmi quelli che avete fatto fino ad ora se avevate sbagliato qualcosa crashavano beh non è vero se magari poteva capitare un ciclo infinito e il programma andava ecco questo è un ciclo infinito e quindi è molto brutto perché il programma è in attesa di se stesso altro problema che può capitare starvation significa morte di fame letteralmente che significa morte di fame? che questi 5 filosofi non sono tutti quanti uguali ce n'è uno più lento degli altri per qualche motivo immaginate che sono 5 thread che fanno 5 cose diverse c'è magari qualcuno che le sue cose le fa più velocemente degli altri perché ha un compito più facile e allora ci stanno dei thread che sono velocissimi a prendere queste risorse e ce ne sono altri che sono un po' più lenti e questi altri che sono un po' più lenti magari non la prendono mai la forchetta o entrambe le forchette e quindi il programma non si blocca perché gli altri thread gli altri filosofi mangiano ma ci sta una parte del programma che invece non riesce mai a prendere il controllo di questa cpu o meglio no il sistema operativo gli dà la cpu però lui dice io non ho quello che mi serve quindi io attendo attende 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 e quindi va muore di fame quindi avete una parte del programma che non risponde ma il resto sì è un po' come avete state su word e va in starvation il processo che stava su disco e vedete in basso a sinistra salvataggio su disco in corso voi potete continuare a scrivere ma questo salvataggio su disco non finisce mai di salvare e quindi voi a un certo punto dopo due ore di avete scritto la vostra tesi dice ma che sta a fa questo provate a chiudere e quello dice vuoi salvare certo che voglio salvare non fino adesso che hai fatto e quello non salva avete perso due ore di lavoro quindi queste sono cose che accadono davvero nei programmi che usano la programmazione concorrente tutto questo perché è avvenuto perché questi problemi non c'erano prima di oggi perché ci siamo complicati la vita perché se vogliamo beneficiare dei vantaggi della programmazione concorrente cioè multitasking cioè tutto quello che vediamo oggi sui nostri computer e smartphone i thread accedono a risorse condivise e quindi devono accedere in maniera coordinata questo è quello che manca manca la coordinazione tra i thread un accordo un contratto il contratto più semplice a cui si possa pensare ma non è la soluzione di tutti i mali quindi quella di oggi vuole essere un'introduzione ma non è la fine della programmazione concorrente ci sono interi corsi su questo argomento uno strumento sicuramente utile è la mutua esclusione la mutua esclusione è molto semplice se io sto accedendo ad un'operazione ad una sezione in generale potrebbe anche non essere una sola riga di codice ma potrebbe essere una sezione di codice in questa sezione io accedo ad una risorsa condivisa e siccome questa risorsa è condivisa e siccome so che noi ci faremo aggomitate per prendercela e magari ce la prendiamo nei momenti sbagliati e succede quello che è successo qui allora sai che facciamo se io accedo a questa risorsa finché io non finisco nessun altro ci può accedere anche se il sistema operativo decide di togliermi il controllo darlo ad un altro thread quell'altro thread vede che io non ho ancora finito e quell'altro thread si mette in attesa il sistema operativo poi gli toglierà la sua CPU gli la ridarà al thread che doveva finire di svolgere il compito il thread che stava svolgendo il compito lo porta a compimento adesso quella sezione si può liberare e ci può entrare un altro thread questo è il meccanismo della mutua esclusione quindi due thread non possono accedere insieme nello stesso intervallo di tempo alla loro sezione critica nello stesso istante cioè io quando ho finito io parte l'altra la sezione critica questo è il nome che diamo è un frammento che contiene risorse condivise quindi una variabile globale un dispositivo esterno vuol dire il disco fisso il disco fisso è possibile salvare due cose contemporaneamente in quel caso è il sistema operativo che si preoccupa di evitare perché ovviamente un disco non può scrivere contemporaneamente soprattutto i dischi quelli i dischi fisici non gli ssd i dischi a disco si chiama disco perché una volta c'erano i dischi adesso l'hard disk è fatto con le celle di memoria quindi non si dovrebbe mai non si dovrebbe più chiamare disco fisso non è un disco è una memoria flash ok ce l'avete no gli ssd mi piace gli ssd i computer vanno molto più veloci ok quindi se c'è una risorsa condivisa essa deve essere bloccata temporaneamente fino a compimento del compito del thread il thread che tenta di accedervi e la risorsa è bloccata aspetta finché non si sblocca però che succede ragazzi questo perché non risolve tutto perché pensate che un thread potrebbe dire io entro nella mia sezione condivisa e ci posso entrare perché sono il primo quindi la blocco è mia ok ora questo thread potrebbe essere un thread complesso che fa chiama altre funzioni nel suo filone di programma immaginate ora che queste altre funzioni anche loro vogliono accedere alla risorsa condivisa però siccome la risorsa condivisa la possiede il thread corrente queste funzioni del thread corrente dicono io voglio accedere a quella risorsa ma è bloccata dal thread corrente quindi è un cane che si morde la coda io voglio accedere alla mia risorsa ma la mia risorsa è bloccata da me questo succede questo è deadlock è deadlock autoindotto io voglio accedere alla mia risorsa ma io l'ho bloccata prima e non l'ho mai sbloccata è di nuovo deadlock quindi non è garanzia che tutto funzioni è un aiuto in particolare l'aiuto a livello di codice consiste nell'usare questi strumenti di mutua esclusione in inglese mutual exclusion che tradotto l'acronimo diventa mutex mutex ci sono in tutti i linguaggi non c'è solo il cipro spas cioè quello che stiamo imparando ragazzi sono cose che valgono in generale non è il cipro spas che ha questi problemi che ha queste soluzioni tutti i linguaggi hanno queste cose cosa fa il mutex il mutex è un oggetto della classe mutex in questo caso globale che è deputato a proteggere una sezione critica quindi io in questo caso l'ho chiamato counter mutex perché quello che voglio proteggere è una variabile che si chiama counter in generale il nome del mutex per avere un significato dovrebbe essere il nome della sezione che volete proteggere quindi sto salvando su disco che ne so save file mutex sto che cosa ne so sto dialogando con la stampante printer mutex cose di questo tipo come funziona il mutex? il mutex ha l'ingresso e l'uscita l'attesa e lo sblocco lock è il metodo all'inizio di una sezione critica e come funziona il lock se il mutex è bloccato perché qualcun altro ne ha preso possesso il thread corrente aspetta e quando verrà liberato il thread corrente si sblocca e va avanti nell'esecuzione quindi il lock è una chiamata bloccante cioè il mutex ti blocca thread se tu non hai controllo di questa sezione critica come dicevo prima se il mutex è stato bloccato dal thread corrente si verifica un deadlock alla fine della sezione quindi quando una volta io entro nella sezione e quindi ho io il controllo di questa sezione critica devo ricordarmi di fare l'unlock altrimenti se non me ne ricordo sta cosa rimane bloccata in eterno quindi devo dire a tutti quanti io mi sono sbloccato quindi unlock rilascia il blocco e consente ad altri thread di possessarsi del mutex vediamo se è davvero così quindi include mutex anche questo dal cpp11 creo una variabile globale e la chiamo chiamo counter mutex ma potevo chiamarla come mi pareva adesso qui inserisco la protezione lock all'inizio e unlock alla fine questo significa che non è più vero non è più vero che un thread mentre sta facendo 1,2,3 cioè leggo counter sommo 1 e scrivo counter il nuovo valore non è più vero che quel thread adesso gli viene tolto la cpu viene data ad un altro thread e quell'altro thread fa le stesse cose 1,2,3 no gli viene tolta la cpu può ancora subcapitare ma l'altro thread quando proverà lui a entrare in questa sezione dirà no guarda è bloccato quindi sistema operativo toglimi la cpu io non so che fare e quindi si ritorna al thread che stava svolgendo il compito e questo significa finalmente stavolta tutto torna a funzionare e non è un caso ovviamente lo potete fare milioni di volte non ci sarà mai un caso in cui questo non funziona quindi non è ovviamente una coincidenza e adesso allora vi faccio una domanda cattiva spero non troppo nell'esercizio di prima quello delle stampe con tre soli thread principale e due figli quindi non c'erano cicli non c'erano cose dell'altro mondo eppure non funziona bene hello from main thread manca il numero non si va a capo quindi manca numero e non si va a capo due errori hello from thread manca il numero trezzo errore manca a capo quarto errore hello from thread tutti i numeri e tutte le a capo tutti insieme ancora diverso rispetto a quello che era successo mezz'ora fa e ovviamente non è deterministico quindi cose diverse in esecuzioni diverse qual è il problema chiedo a voi qual è la risorsa condivisa prima era counter adesso chi è la risorsa condivisa a cui thread diversi accedono nello stesso intervallo di tempo attenzione fu non è una risorsa fu è un insieme di istruzioni dite meglio ci siete comunque qual è la risorsa prima era la variabile globale counter adesso è la variabile globale questa è una variabile globale ve lo ricordate qualche volta fa ho aperto l'header di iustream e ho trovato la dichiarazione della variabile globale cout lo ricordate? dove sta? go to definition dove stai? vabbè l'altra volta l'abbiamo trovata adesso mazza quanto è lunga sta cosa è troppo lunga non la ritrovo però l'altra volta l'abbiamo trovata la variabile globale cout la variabile globale cout ma non è soltanto una variabile dentro il meccanismo del cout ha a che fare con la grafica la console quella cosa nera per quanto ci sia antipatica è una risorsa si chiama terminale il terminale ce ne possono stare più di uno contemporaneamente io posso aprire più di un terminale ma un programma c'è un solo terminale deputato quindi un terminale condiviso da tutti i thread su quel terminale io ci sto stampando ci sto stampando le delle cose delle informazioni quindi può succedere che mentre io ci stampo tra l'altro la stampa è divisa in parti stampo prima questa parte poi questa parte poi quest'altra parte questo è equivalente di uno due tre sono tre operazioni prima questo poi questo poi questo quindi mentre io faccio questo arriva un altro thread che fa questo che fa la stessa cosa in realtà perché sono due thread che hanno la stessa funzione e quindi quindi succede hello from thread spazio hello from thread spazio hello from thread spazio poi uno due tre e poi tutti a capo era successo prima una volta soluzione soluzione come lo chiamo shout mutex per esempio e quindi devo inserire lock e unlock qui non basta anche nel programma principale perché il programma principale è un thread sì è il thread principale ma è un thread che è in competizione in concorrenza con tutti gli altri thread quindi anche lui deve assolutamente proteggere la sua sezione critica adesso dovrebbe succedere che la stampa è sempre ordinata ora non è importante che ci sia prima il main poi gli altri thread quello ancora può variare in funzione di quanto ci mettono questi thread a partire mentre il thread principale va avanti in funzione del sistema operativo chi toglie chi l'importante però che la stampa sia sempre una intera completa hello from numero del thread andata a capo adesso lo è e non lo è per coincidenza il comportamento adesso è deterministico a meno della numerazione dei thread che qui su windows in questo caso è sempre uno dei tre ma in realtà non è detto in generale che i numeri siano così ok fatemi solo riaprire il programma di prima solo per mostrarvi che dal task manager adesso noi qua ci mettiamo anziché mettercene 10 ce ne mettiamo 100 iterazioni così abbiamo tutto il tempo attraverso il nostro task manager per vedere che in effetti ci sono tanti bei thread in esecuzione vedete questo numero come oscilla oscilla da 0 a 1000 in maniera molto rapida noi vediamo dei snapshot qui non vediamo la curva che scende a 0 a 1 e risale a 1000 ma vediamo 1001 perché c'è stato un momento in cui era 1001 perché sono 1000 thread più il thread principale è stato veramente un caso molto fortunato quindi abbiamo battuto tutti gli altri programmi abbiamo creato un programma che ci ha l'altro ha finito che ha raggiunto la bellezza di 1001 thread il tutto senza senza sì la cpu ovviamente in quel caso era anzi no discutiamolo questa cosa discutiamo questa cosa che è successa perché mi è di input per dirvi un'altra cosa sentite la ventola? non si sente? comunque la ventola del mio computer si è accesa e il mio quad core sta questo non è un 100% di 1 è il 100% di tutto il sistema stiamo vicini all'utilizzo di tutta la potenza computazionale di questo processore quad core che significa? come mai è stato possibile sfruttare tutta questa potenza? e soprattutto vi chiedo adesso il confronto che succede se invece se invece di crearne mille ne creo cioè quello che voglio dire ragazzi che quello che abbiamo appena visto è anche programmazione parallela cioè nel momento in cui io ho 4 thread o scusate ho 4 core e ho mille thread è naturale che questi mille thread non vadano tutti su una sola cpu ma il sistema operativo ne metta alcuni sulla prima cpu sul primo core alcuni sul secondo alcuni sul terzo alcuni sul quarto cioè il sistema operativo cerca di sfruttare tutta la potenza disponibile ed è questo lo strumento che vi consente di velocizzare la vostra elaborazione quindi la programmazione multi thread può essere usata anch'essa per implementare la programmazione parallela per esempio avete fatto un algoritmo di ordinamento che avete fatto il session sort bab sort e selection sort giusto ora gli algoritmi di ordinamento non tutti quanti sono parallelizzabili che significa che io posso scrivere in maniera multi thread l'algoritmo di ordinamento quindi anziché ordinare che ne so in 100 secondi siccome l'algoritmo opera in parallelo su diverse porzioni dell'array è più veloce e quindi ci mette poco meno tempo quindi in quel caso avete fatto programmazione parallela quindi la programmazione multi thread se sotto c'è multi core e se è fatta bene bene significa che se il thread A attende il thread B che attende il thread C non è più parallelo perché sono in sequenza però se li rendete se li programmate bene questi thread allora potreste anche velocizzare l'esecuzione del vostro del vostro algoritmo bene ci sono altri strumenti per fare questo il mutex è lo strumento di base e sarebbe l'hello world della muto esclusione ci sono molti molti altri strumenti non solo nel C++ ma anche in in altri linguaggi vabbè questo l'abbiamo visto l'output del programma con senza mutex un difetto del mutex è quello di doversi ricordare l'inizio e la fine anzi non faccio un lock verrà se io non faccio un lock mi sono scordato di sbloccare un mutex vanno in deadlock ora il deadlock cosa corrisponde in questo caso corrisponde a un processo che schizza il 99% non sembra affatto corrisponde a un processo apparentemente dormiente dove stai figlio i thread dovrebbero essere in esecuzione eccoli qua mille fisso mille già questo è un indizio mentre prima variava adesso è fisso mille perché è fisso mille perché questi mille thread sono tutti in attesa di questo benedetto mutex che si sblocca ma siccome quello che ce l'ha non l'ha sbloccato quello che ce l'ha ha finito questo è il motivo per cui non sono mille e uno sono 999 figli del thread principale quindi più uno mille il primo thread è entrato nella sezione critica non ha sbloccato il mutex ha finito ha terminato gli altri 999 che sono partiti stanno ancora ad aspettare che il primo li sblocchi il primo ha finito non ha sbloccato quindi sono in deadlock questo è un deadlock è un deadlock che non usa cpu ed è terribile è un programma che non si frizza un programma che non usa cpu un programma che apparentemente sta dormendo in realtà è andato in deadlock e non si riprenderà mai più il sistema operativo non ha alcun modo di capire che questo è in deadlock perché se avessi usato invece tutta la cpu il sistema operativo si accorge dei deadlock ad alto consumo e li killa dopo un po' lo fa Linux lo fa anche Windows ed è bene che succede perché se succede di notte il server del sito web non va in crash e quindi è una buona cosa quando vengono killati i programmi invece questo è un programma che nessuno sta killando l'utente non se ne accorge il sistema operativo non se ne accorge questo programma può stare anche un anno e non fa niente dopo un anno ci si rende conto che in un sistema non lo so di gestione dell'azienda non tornano i conti i conti perché c'era un programma che doveva fare delle cose e non ha fatto niente ci sono programmi in esecuzione anche per anni che hanno il compito di fare cose importanti bene quindi uno strumento per evitare che il programmatore si dimentichi dell'unlock è quello di usare il lock guard però ogni qua entriamo nelle specifiche del linguaggio ce l'hanno anche altri linguaggi di programmazione però si chiama in un altro modo quindi il lock guard sfrutta la programmazione oggetti vi ricordate la programmazione oggetti come funziona se una variabile automatica viene creata in un contesto di una funzione che succede quando esco da quel contesto la variabile automatica viene diallocata e diallocare quale metodo speciale di un oggetto invoca il il distruttore quindi questo metodo questa struttura lock guard non fa altro che mettere nella sua pancia un riferimento al mutex che gli si dà nel costruttore e quando questa variabile muore perché si esce si finisce il segmento di codice delimitato dalle parentesi graffe viene diallocata la variabile viene invocato il distruttore e nel distruttore c'è mutex unlock tutto qua la potevamo fare anche noi questa lock guard è una classe alla fine di poche righe di codice ok niente di speciale insomma sono stili di programmazione un altro costrutto molto interessante qua però davvero entriamo nelle specifiche del linguaggio ce l'hanno solo i linguaggi compilati non quelli interpretati il cpp ha il costrutto atomico cos'è il costrutto atomico il costrutto atomico è un messaggio che noi stiamo dando al compilatore web compilatore questa variabile che io proteggo tramite un costrutto atomico ti sto dicendo che quando io faccio qualcosa su questa variabile tu devi dire al sistema operativo di lasciarmi stare cioè il sistema operativo non deve stare lì a togliermi il controllo mentre io sto facendo un calcolo su questa variabile e allora questa variabile viene in questo caso protetta come se fosse un mutex non tutti i compilatori supportano questa cosa non tutti i sistemi operativi questa è una cosa un po' più dipendente dal contesto di utilizzo però è più efficiente del mutex perché questo dice proprio caro compilatore caro sistema operativo fammi fare 1, 2, 3 non mi rompere le scatole quando ho finito poi dai il controllo agli altri quindi è una specie di protezione a livello hardware della consentirmi questo termine della variabile cioè questa questa variabile sta in memoria e nessuno ci può andare finché io non ho finito una specie di lucchetto nella ram ok infatti funziona solo sui tipi nativi mentre negli altri tipi funziona nel senso che ve lo consente ma dietro il compilatore ci mette un mutex allora tanto vale che lo mettevate voi insomma avete un controllo più preciso di quello che succede poi ci sono tante cose tante altre cose che non vi racconto perché servirebbe un corso appunto di programmazione concorrente parallela se vi interessa c'è un approfondimento in pdf che vi metto nella cartella per esempio non vi ho detto come sincronizzare i thread cioè se i thread devono fare ognuno un pezzo di una cosa e poi sincronizzarsi non posso usare join perché non posso usare join perché join è io thread mi metto in attesa di un altro thread ma se quell'altro thread pure deve aspettare che finisco io io mi metto in attesa di A si mette in attesa di B B si mette in attesa di A di nuovo un circolo vizioso quindi non bastano i comandi che vi ho dato io fino ad ora il mutex il join servono altre cose che servono per esempio per gestire la sincronizzazione tra thread quando ad esempio si fa si eserve un task in maniera cooperativa e quindi ritorniamo alla programmazione parallela bene come esercizio ma non adesso potete se si è interessati qualcuno l'ha fatto nel passato di implementare in maniera multi thread un algoritmo di ordinamento a piacere ce ne sarà uno in particolare che vedremo fra poche lezioni fra una settimana si chiama merge sort e si presta benissimo a essere parallelizzato e lo studente una volta lo studente fece questa cosa e dimostrò che andava se usava 4 thread andava 4 volte più veloce della versione a monotread se ne usava 8 invece no perché perché se uno ha 4 core sotto che tu usi 8 thread significherà che sullo stesso core ci saranno 2 thread in esecuzione quindi tu non puoi velocizzare la programmazione parallela funziona in funzione del numero di processori se uno ha un processore può usare pure 10.000 thread ma non hai alcun beneficio bene siamo 10 minuti d'anticipo e che vogliamo fare l'argomento non so cosa volete fare vabbè ragazzi l'argomento è terminato iniziare un argomento nuovo no perché questo non è tra l'altro abbiamo finito complementi di programmazione posso solo chiudere con una piccola vignetta umoristica la volta scorsa abbiamo parlato di ricorsione il riassunto se potessimo riassumere la ricorsione in un'animazione sarebbe questa eh c'è un pittore che davvero fa questo se si nella vita lui dipinge lo conoscete dipinge dipinge quadri nei quadri poi fa un montaggio video particolare per creare una cosa di questo tipo quindi dipinge tanti quadri di scene diverse però ogni scena è collegata ad un'altra scena con un riferimento li filma e poi fa una cosa di questo tipo che dura anche 3-4 minuti e sono tutti quadri diversi però con una transizione che fa sembrare che siano uno dentro l'altro dentro l'altro non so davvero il riferimento di questo pittore se lo trovo ve lo metto su 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 classroom giusto per quindi la ricorsione la ricorsione è tra di noi ok bene ragazzi terminiamo qui questa lezione